sempre il 7 dicembre 2013 e siamo sempre qui a rivolta pvc e la rima non era voluta però siamo qui per la tempesta rivolta terzo atto della tempesta rivolta ed è tornato anche un dente ciao ciao giuseppe entusiasmo è molto bello averti qui come diceva paolo villaggio in una popolare sigla e sei tornato a mettere dischi sì perché insomma la mia carriera ormai è finita e quindi devo rabbattarmi in qualche modo è un po la sindrome non è la rai no è sì è così c'è un esaurimento per tutto adesso che non siamo più belli e giovani dobbiamo insomma fare dell'altro allora in tutto questo esaurimento dei valori musicali e dei valori bollati che comunque si trovano fuori milano sappiamo come la famosa cittadina è cambiata un po la visione da parte tua dal palco del pubblico hai visto una variazione negli ultimi anni di quantità di persone ai concerti in genere anche da spettatore hai visto qualcosa cambiare assieme alla musica assieme a come viene distribuita la musica ho visto cambiare la musica visto cambiare la gente aumentare la gente aumentare anche la musica soprattutto la musica migliorare questa è la cosa bella la musica negli ultimi anni quella italiana stiamo parlando io stiamo parlando è migliorata è migliorata il pubblico migliorato guarda quante belle facce che ci sono sono tutti più belli una volta c'era gente brutta che andava ai concerti invece sono tutti belli carini così e cosa è cambiato nel tuo modo di registrare i dischi da anice in bocca ad adesso che sappiamo qualche voce ben informata ci ha detto che il tuo disco è prossimo a una uscita si uscirà a gennaio e non è cambiato modo non è cambiato modo diciamo che ogni volta mi piace cambiare modo di fare le cose questa volta sono tornato un po indietro ma con un passo avanti fatto una spaccata diciamo così come nel ballo del pinguino esattamente infatti il disco si intitolerà il ballo del pinguino vedo che apprezzi sì praticamente cosa ho fatto fatto registrato molto bene però in in un posto che non è uno studio di registrazione perché mi andava un po stretta la questione quindi insomma è venuto un misto 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 è stato un po una riserva indiana del suono no bene ed è per questo che ti chiedo che cosa è cambiato però nel modo tuo di registrare nel senso il modo di usare la strumentazione elettronica come direbbe alberto camerini no non è che non è che si è cambiato ma cambia sempre non è che è cambiato nel tempo perché ogni volta si fa cerca di fare qualcosa di un po diverso insomma visto che la scrittura è sempre quella almeno cambiamo quello che ci sta intorno insomma lineare oserei dire lineare in tutto questo sì perché ti piace fare il dj mi piace fare il dj perché riesco ad ascoltare la musica che ascolto a casa mia però fuori da casa quindi posso uscire anche di casa ogni tanto questo è un ottimo motivo di output e i tuoi input quali sono oltre ai tuoi gusti personali gli input non ci non ci sono infatti sono una persona vuota grazie anche per questo figurati giuseppe grazie mille dente grazie a te sei sempre molto così anche tu grazie ciao grazie a te sei sempre grazie a te sei sempre grazie a te sei sempre Grazie.